All'interno della maggioranza tiene sempre banco il brazzo di ferro tra l'Udc e il sindaco, sostenuto però dagli altri alleati di centrodestra. Ieri in quinta commissione, numero legale garantito dalle opposizioni. Alghero punta sul centro del riuso a Galboneddu nel progetto in via di presentazione per il PNRR c'è il riutilizzo dei beni destinati a diventare rifiuti. Il 15 febbraio al via un nuovo corso per soccorritore base alla misericordia di Alghero. Ne abbiamo parlato con Cristina Correddu, volontaria e formatrice. Questi erano i titoli del nostro sommario ben ritrovati. I telespettatori di CatalanTV è la politica ad essere in primo piano oggi perché tiene sempre banco la situazione all'interno della maggioranza con l'Udc che resta sempre un po' all'angolo e i problemi di numeri nelle riunioni di commissione. Centro, sinistra e 5 Stelle colgono la palla al balso e attaccano. Situazione non più tollerabile. Il rischio, paventato da alcuni all'interno della maggioranza, era la paralisi delle attività di consiglio e commissioni cosa che non è avvenuta perché in più di un'occasione le opposizioni hanno mantenuto il numero legale. Altrettanto è successo ieri, in occasione della riunione della quinta commissione, convocata da Cristina Mulas per discutere delle problematiche del servizio di igiene urbana e programmare il nuovo appalto. Più di un componente della maggioranza risulta assente, così come ormai con suetudine, la maggioranza non in grado di garantire il numero legale, è stato l'affondo arrivato da centrosinistra e Movimento 5 Stelle. La commissione si può tenere solo perché ancora una volta i membri della minoranza, per senso di responsabilità verso i cittadini, permettono con la loro presenza l'apertura dei lavori. Una situazione ormai non più tollerabile, quella che va avanti da troppo tempo, sottolineano i consiglieri di Futuro Comune, per Alghero, PD, Sinistra in Comune e Movimento 5 Stelle, con parti della maggioranza che si fanno i dispetti tra loro, e in particolare con le forze più vicine al sindaco, che ostacola il lavoro dei presidenti di commissioni indicati dall'Udc. Succede così che Fratelli d'Italia e noi con Alghero, i gruppi più fedeli al sindaco Conoci, oramai disertino sistematicamente le commissioni convocate dall'esponente dell'Udc, Christian Mulas, presidente della quinta commissione. Un andazzo non più tollerabile, secondo gli esponenti di opposizione, con la maggioranza che invece di risolvere le problematiche della città, è totalmente impegnata nel farsi dispetti, sgambetti e ripicche, in un perfetto clima d'asilo Mariuccia, o ci si passi la freddura d'asilo Mariuccio Conoci. Al di là delle polemiche sollevate da centrosinistra e 5 Stelle, comunque il clima resta teso, con l'Udc messo di fatto all'angolo da sindaco e alleati. Il partito centrista chiede da tempo un assessorato, ma all'interno della maggioranza e molti non sono d'accordo a procedere con un rimpasto o un azzeramento. E' quello che vorrebbe evitare il sindaco, considerando soprattutto i diversi progetti in cantiere portati avanti da alcuni assessori. D'altro canto, però, la recente lettera del leader, centrista Oppi, ha tutt'altro che placato gli animi. E ora si attende un incontro chiarificatore per porre davvero fine al clima da guerra fredda, chiareggia sul centrodestra da un po' di tempo a questa parte. Ed ora parliamo del centro del riuso a Galbonedu, presso l'ecocentro comunale. Nel progetto e via di presentazione per il PNRR c'è il riutilizzo dei beni destinati a diventare rifiuti, tutela ambientale e solidarietà sociale nell'iniziativa targata assessorato all'ambiente. Il nuovo progetto di rifunzionalizzazione degli spazi presso il centro di Galbonedu nel capannone quasi totalmente inutilizzato prevede la trasformazione in un centro di raccolta di materiali da avviare a riuso. Un progetto molto ambizioso e nel pieno rispetto dell'ambiente inserito nel bando PNRR su cui sta lavorando l'assessorato all'ambiente e che sarà trasmesso al Ministero nelle prossime settimane. Dopo aver conseguito ottimi risultati in materia di differenziata che hanno consentito di raggiungere percentuali premianti, spiega il Sindaco Mario Conoci, il programma dell'amministrazione si consolida con una ulteriore iniziativa di miglioramento del servizio per lo sviluppo del quale si sta presentando un progetto di tutela ambientale e solidarietà sociale. Questo è denominato miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prevede l'importo complessivo di un milione di euro. La proposta dell'amministrazione, che avanza nell'ambito del PNRR, avviso M2C, è articolata in varie linee di intervento finalizzate a centrare diversi obiettivi previsti dalla specifica misura del bando. Oltre al miglioramento e meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, linea di intervento preponderante nel progetto ideato per agire e sulla transazione alla tariffazione puntuale, l'assessorato all'ambiente ha inserito nella proposta di richiesta di finanziamento anche la creazione di un centro di riuso. Proprio a Galbonedu, nella sede dell'ecocentro comunale, infatti, c'è un immobile che si adatta perfettamente a questo uso. Ridurre, riusare e riciclare sono questi gli obiettivi dell'amministrazione, spiega l'assessore all'ambiente Andrea Montis. Con questo progetto i materiali non più utilizzati, ma ancora in buono stato, potranno trovare una nuova vita senza diventare rifiuti, generando dunque risparmi sugli smaltimenti in discarica. Ad oggi sono numerosi i beni che, nonostante siano ancora funzionanti, comunque utilizzabili, come mobili, giocattoli, televisori, computer, arredi, vengono conferiti presso l'ecocentro. L'obiettivo è quello di tutelare l'ambiente, cercando di ridurre la quantità di rifiuti e fornire un aiuto concreto a quella parte di popolazione che, a causa della crisi economica o di motivi vari, non ha la possibilità di accedere a determinati beni. Il centro del riuso dovrà essere in grado, anche al fine di non generare costi, di autosostenersi energicamente da fonti rinnovabili. Per raggiungere questo scopo, con l'attuazione del progetto, si dovrà procedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, con interventi di vario tipo mirati a renderlo idoneo a questo utilizzo. Parliamo ora invece delle zone economiche speciali, perché anche la Sardegna si appresta a sfruttarne le opportunità, e nello specifico il triangolo delle aree industriali Porto Torres, Sassari e Alghero, San Marco e Sassari-Tronco-Reale, che fanno capo al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Sentiamo nel prossimo servizio le parole del Presidente del Consorzio, Valerio Scano. Le zone economiche speciali sono state introdotte in Italia nel 2017. Sono già sette quelle operative. Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia Basilicata, Puglia Mulise, Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale. Per la ZES Sardegna, definita con delibera di giunta regionale del marzo scorso, si attende solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto istitutivo. Le zone economiche speciali sono aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche collegate ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica. L'idea è semplice, lancia, o meglio sarebbe dire rilancia, numerosi territori, tra cui in Sardegna il triangolo delle aree industriali di Porto Torres, Alghero, San Marco e Sassari-Tronco-Reale, che fanno capo al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Se arrivati a questo punto al rush finale, manca solo un tassello ed è quello della pubblicazione del decreto istitutivo che renderà definitivamente operativo uno strumento capace di attivare circuiti virtuosi di rilancio e attrarre nuovi investimenti. Con i 500 ettari di ZES, l'asse industriale di Sassari-Alghero-Porto Torres potrà essere l'asse trainante dello sviluppo economico del nord-ovest della Sardegna. Sarà importante a questo punto il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, delle associazioni di categoria, delle parti sociali, per costruire il percorso, il progetto strategico che accompagnerà questa importante occasione. Anche perché la zona economica speciale investe aree limitate e ben definite, ma l'indotto economico è capace di caratterizzare un'intera territoria. Come detto dal presidente del consorzio, Valerio Scanu, il consorzio industriale provinciale di Sassari, secondo per estensione in Sardegna, comprende 500 ettari che sono suddivisi su Porto Torres, 331, Alghero-San Marco, 103, Sassari-Trunco-Reale, 76. Sarà un momento importante per il territorio, nel quale però sarà necessario essere pronti, comprendendo la necessità di predisporre per tempo tutta una serie di azioni strategiche che supportino al meglio i benefici che le imprese avranno intenzioni di cogliere. Nel mondo esistono circa 4.000 casi di esperienze di zona economica speciale ed è stato dimostrato che possono apportare sviluppo, valore aggiunto e nuova occupazione. Il consorzio industriale della provincia di Sassari in questo senso si sta preparando per tempo, con progetti per illuminazione pubblica, videosorveglianza, reti del gas e fibra ottica, ma soprattutto preparando un robusto piano di marketing territoriale. Ed ora un passaggio, come sempre, sulla situazione Covid con 1.440 nuovi casi segnalati nell'ultimo bollettino di questi 856 diagnosticati da test antigenico. Sono stati processati in totale 7.454 tamponi con un tasso di positività del 19,3%, ben 10 i decessi, mentre sul fronte degli ospedali i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31, uno in meno rispetto al report precedente, mentre i ricoverati in area medica sono 363, due in più. Sono invece 28.430 le persone in isolamento domiciliare. Intanto il Ministero della Salute si appresta a revocare l'obbligo delle mascherine all'aperto, come preannunciato ieri dal Sottosegretario della Salute Costa, con lo stato di emergenza che dovrebbe finire il 31 marzo e quindi un progressivo allentamento delle restrizioni. Ora ci fermiamo per la consueta pausa per la pubblicità. A tra poco. Ritorniamo in studio. Si apre oggi una nuova settimana di conferenze all'Università delle Treta di Alghero, questo pomeriggio alle 16.30, presso la storica sede di Via Sassari 179. Sarà la dottoressa Alessandra Del Rio, archivista dell'Archivio Giocesano di Alghero Bosa, ma anche scrittrice e storica, a tenere la conferenza dal titolo Alghero e la Sardegna nel 1500. Medicina, religiosità ed estrema unzione, dal testo legislativo del Vescovo di Bacagliar. Giovedì 10 febbraio, invece, sempre alla stessa ora e sempre nella sede di Via Sassari, sarà la dottoressa Emma Fenu, scrittrice e presidente dell'Associazione Cultura al Femminile, ma anche autrice di romanzi e saggi ed esperta di scrittura creativa, a tenere la conferenza dal titolo Da Medusa a Penelope, rivisitazione del mito e riflessioni sulla sposa perfetta. Ed ora, invece, parliamo di un'importante realtà della nostra città, ovvero la misericordia, che il prossimo 15 febbraio avvierà un nuovo corso per soccorritore base, aperto a chi ha più di 16 anni. Ne abbiamo parlato con una delle volontarie, Cristina Corredo. A metà mese, qui alla misericordia di Alghero, inizia il corso per soccorritore base, ovviamente rivolto ai volontari che volessero avvicinarsi a questa importante realtà della città. Sì, il 15 febbraio inizia l'ennesimo corso, perché noi ogni anno cerchiamo di fare almeno due corsi di livello base. Infatti, il solo metodo per riuscire ad avere dei nuovi volontari all'interno della nostra misericordia è fare i corsi per riuscire a raccogliere e a incrementare il nostro bacino di volontari. Il corso di livello base è aperto alle persone che dai 16 anni in su volessero diventare volontari della misericordia. Ci sono diverse lezioni, il corso durerà circa un mese, un mese e mezzo. Alla fine del corso ci sarà un piccolo esame e durante il corso insegneremo ai volontari a usare i presidi che noi utilizziamo giornalmente per il trasporto e i servizi che noi facciamo, come la sede a rotelle, il teloportaferiti, la barella e quant'altro. Insegneremo loro a fare un BLS, un BLSD, le tecniche base per soccorrere una persona. A questo corso di livello base poi seguirà un corso di livello avanzato in cui approfondiremo queste conoscenze, livello avanzato che poi aprirà le porte per poter accedere ai servizi di 118, servizi che in genere noi facciamo nel periodo estivo. Chi fosse interessato cosa deve fare? Chi fosse interessato può mandare una mail alla misericordia oppure semplicemente, magari ancora più semplicemente, così questa potrebbe essere la scusa, diciamo così, per vedere e visionare la sede, pure carsi in centralino, prendere il modulo da compilare e poi riportarlo in sede. Per i minorenni ci vorrà la firma di un genitore. Ultimissima domanda. L'importanza della misericordia ad Alghero? Allora, la misericordia è un'associazione che si basa interamente sui volontari, sul tempo che i volontari vogliono dedicare, possono dedicare. Questo non è mai, non lo sarà mai un vincolo, nel senso che ogni volontario può dedicare alla nostra associazione il tempo e i giorni che preferisce. Può essere un'ora, può essere un'intera giornata. Noi non abbiamo delle date o delle ore prefissate, non c'è insomma nessun obbligo. Credo che la misericordia sia importante per la città di Alghero, perché oltre a fare un servizio di ausilio alla cittadinanza, per quanto riguarda i trasporti di persone che hanno difficoltà per visite oppure per dimissioni, dà anche un supporto a attività di vario genere nella città, come ad esempio manifestazioni, attività sportive, manifestazioni di altre associazioni. Quindi le nostre porte sono sempre aperte nel momento in cui chi vuole venire anche solo, tra virgolette, a curiosare, a vedere come funziona e noi siamo qua, in genere dalle 8 di mattina fino alle 20. Grazie alla collaborazione tra l'Istituto di Istruzione Superiore Angelo Rotte di Alghero e la Fondazione Mosos di Cagliari è stato attivato un corso triennale, Istituto Tecnico Superiore per la Gestione Tecnologica dell'Infomobilità delle aree portuali 4.0, sesto livello EQF. Il corso, attivato a Rotte, si articola in sei semestri. Al termine si consegue il diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al sesto livello del quadro europeo delle qualifiche EQF. Al momento, anche alla luce della situazione emergenziale, le attività didattiche si svolgono a distanza, non appena invece sarà possibile, le lezioni si terranno in presenza presso la sede dell'Istituto Rotte in via Diez. Le lezioni sono iniziate ma c'è ancora qualche posto disponibile, chi fosse interessato a iscriversi può provare tutte le informazioni necessarie sul sito internet dell'Istituto Rotte di Alghero chiamando al numero 079 95 16 27 e inviando una mail al tutor del corso, ovvero il professor Marco Piga all'indirizzo marco.piga.istituto.edu.it Chiudiamo con lo sport. Penultimo appuntamento per il campionato di ciclocross 2022 domenica scorsa ad Arborea. In un percorso spettacolare realizzato tra spiaggia e pineta si è svolto il secondo trofeo Arborea Bike Cross Smile 2022 dove l'Alguero Bike, presente con un gran numero di atleti, ha tenuto testa egregiamente confermandosi tra le varie vittorie di categoria come la squadra più numerosa e prima in campionato. Nella prima partenza dedicata agli allievi primo anno si sono difesi egregiamente Mattia Solferino quarto e Gabriele Langella ottavo. Negli allievi due Gabriele Carboni ha chiuso al secondo posto e conquistato il terzo assoluto della gara. Nella categoria Helmet al primo posto Alessandro Ferrau podio anche per Luigi Caboni che ha tenuto duro fino alla fine conquistando il terzo posto esordiente in secondo anno. Per Emanuele Marras purtroppo ritiro a causa di un equasto tecnico si è difeso bene anche Onofrio Ruiu quarto posto tra gli juniores. Per la terza e quarta partenza dedicata ai più grandi Stefano Piras categoria Master 3 ha conquistato il primo posto e il terzo assoluto nella partenza dai 60 minuti. Giovanni Manzotto al secondo posto nei Master 7, Luciano Cattogno secondo e quarto assoluto così come Luigi Ruiu. Sesto entrambi nella categoria Master 6. Per la categoria Woman Bianca Maria Manca ha chiuso al settimo posto l'ultima tappa del campionato di ciclocross Sardinia Cup si terrà questa domenica 13 febbraio a sesto. Ed è tutto. Le due ruote chiudono l'edizione di oggi del nostro Tg. Come sempre il Meteo vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.